Il generale Cosimato con lei non si può non entrare nell'attualità geopolitica, ci sono troppe verità diverse sull'Ucraina, ma come sta andando e come se ne può uscire da una situazione che appare di stallo ma soprattutto anche in arretramento? Purtroppo in questo momento non ci sono più tante voci diverse, gli analisti concordano nel dire che i russi sono in vantaggio, sono all'offensiva e conquistano lentamente terreno, questo come dato tecnico dal punto di vista militare. Ovviamente ci sono delle ripercussioni sia sui paesi europei, abbiamo visto i risultati delle recenti elezioni, sia i rapporti russo-cinesi, parliamo di un ambiente che è assolutamente interconnesso e per cui Gaza, Ucraina e Pacifico Meridionale sono purtroppo faccia di una stessa medaglia. Lei crede alla grande teoria della terza guerra mondiale con alleanze strategiche magari oggi impensabili, ma che tutti questi focolai in giro per il mondo, quelli più grossi e anche quelli più piccoli, si uniscano in un grande scenario che possa davvero preoccuparci molto di più di quello che oggi, forse ancora oggi, noi non percepiamo in una realtà come la provincia di Varese, dove ci sembra ancora tutto troppo lontano. Posso dare curiosamente una buona notizia, cioè in questo momento non ci sono le risorse per fare una guerra mondiale, una guerra convenzionale, non ci sono perché abbiamo un lungo passato di riduzione degli strumenti militari. Purtroppo ci sono delle pulsioni a ricostruire una componente militare in grado di fare nuovamente dei conflitti convenzionali e questo è un aspetto sicuramente inquietante. Proprio due giorni fa si parlava di costruire una linea difensiva tra la Russia, gli stati baltici e la Polonia di 700 chilometri. Dopo il fallimento della linea Maginot nella prima guerra mondiale mi sembra che l'umanità abbia imparato poco. È vero che ci sono delle questioni di prospettiva perché bisognerà vedere come si svilupperà l'iniziativa dei BRICS e il suo rapporto con l'Occidente, però sono questioni di là da venire. L'unica cosa realmente inquietante è l'uso, spero di dire strumentale, di minacce nucleari che non interessano a nessuno perché tanto l'arma nucleare è sicuramente l'arma inutile, l'arma inutilmente devastante.